Parere serio sul capitolo 2019, dato che non l'ho detto Ma quelli che da 40 capitoli gridavano i combattimenti e mosti lamentano di capitoli che non succedeva niente Scarni noiosi che problemi hanno Ma quello è endemico con One Piece, eh Cioè, è sempre così È endemico, nel senso che con One Piece, ma da anni, da sempre Quando ci sono i misteri, quando ci sono le cose, eh Ma perché non si picchiano? Voglio vedere i combattimenti Quando ci sono i combattimenti, ma perché non ci sono i misteri? Con One Piece è endemico, è sempre così Io ci faccio quattro risate Perché è giusto farsi quattro risate A me i combattimenti di One Piece, tutto sommato, piacciono sempre Il capitolo 1019, ecco, questo Parere serio sul capitolo 1019, dato che non l'ho detto È un capitolo molto divertente Proprio perché È un capitolo di sole mazzate E nel corso di una guerra come quella di Onigashima Va bene Ci devono essere, si picchiano Ci devono essere I combattimenti così Ho letto che molte persone si sono lamentate del fatto Che Sasaki Non sia stato Sciorinato bene come personaggio Ma c'è anche da dire che non è che le Ciro Sensei per ogni singolo Dragon Flights Si doveva mettere e si doveva fare una backstory Quelli servivano chiaramente per dare dei combattimenti anche agli Strohez E già il fatto che lui sia stato, secondo me, abbastanza bravo Nel delinearti Page One Ulti Indovina chi In parte Black Maria lo ha già fatto E poi, vabbè, Drake lo conoscevamo È già tanta tanta roba Non è scandaloso Che Uno come Sasaki Che se su sei personaggi Non te ne racconta uno a fondo Perché se tanto poi ti deve far vedere solo la battaglia Che serve per dare comunque esperienza A un personaggio come Frankie Basta e avanza E soprattutto Siamo nel bel mezzo di una guerra Anzi, io trovo E questo l'ho sempre detto Trovo Molto affascinante Che Oda In quella che doveva essere una guerra finale totale tombale Oltre alle mazzate dure pure che ci sono E ci sono e sono belle In realtà l'abbia trovato come scusa anche Per introdurti a un certo tipo di macro mitologia del mondo di One Piece Perché noi stiamo vedendo delle battaglie Inframmezzate da informazioni Che messe lì sembrano quasi buttate a caso Ma che in realtà poi Se messe insieme Ti danno già una panoramica abbastanza complessa Di determinate cose Kaido che parla Che sembra parlare a caso Ma che in realtà ti racconta delle cose Che magari se messe tutte insieme Ti possono dare degli indizi sul suo background La faccenda Lo ripeto per la 750esima volta La faccenda del tradimento Lui che dice Non possiamo fidarci dei pirati Perché i pirati si tradiscono gli uni con gli altri Perché? Che cosa ha passato questo cristiano? Non lo sappiamo Il fatto che del suo frutto del diavolo Perché è importante Perché ha questo Questo debito per la vita con Big Mom Per la faccenda del frutto Perché proprio il frutto non si sa Il fatto di Joy Boy Com'è che lui conosce la storia di Joy Boy O conosce una parte della storia di Joy Boy Oppure ancora Questa cosa del Dio del Sole Nika Buttata veramente lì a caso E tenendo conto che si sta parlando di Joy Boy Uno più uno a casa mia fa due Che poi Oda se la può giocare in un'altra maniera Non è detto Finché non abbiamo la certezza Non ne possiamo parlare E ancora I frutti del diavolo Che diventano preponderanti in questa saga Perché abbiamo la certezza Chiaramente che Quel frutto del diavolo fallato di Vegapunk Proviene da Kaido E' il frutto fatto con Il fattore di lignaggio di Kaido Quindi tutti gli effetti Momonosuke c'ha Si è mangiato il frutto Può diventare in potenza forte come Kaido Il Gom Gom Il Gom Gom che diventa Tutto a un tratto Un frutto centrale Un frutto che volevano quelli del governo Un frutto che ha a che fare con uno dei personaggi Che incontriamo in questa saga E' veramente tutto correlato Stranamente correlato Io non l'avrei mai detto Io mi aspettavo solo botte Botte e botte Mi aspettavo solo Dei capitoli come quello che abbiamo visto nel 1019 Quindi la cosa di Onigashima A me sta continuando a stupire sempre di più Perché ero partito con l'idea Ok sarà Marineford 2.0 Vedremo tante mazzate E via Invece capitolo dopo capitolo L'Oda ci ha dato veramente tante informazioni E poi Se magari in un capitolo Ti fa Lo storytelling un po' più loffio Oppure ti fa Un capitolo come quello su Zeus Che io ho apprezzato tantissimo Oppure ti fa un capitolo come il 1019 Dove Frankie si picchia Con Sasaki e basta Senza darti altre informazioni Senza mezzi termine E ti lascia Con quel cliffhanger Che non è neanche un cliffhanger più di tanto Perché vedi Sì questo frutto Altro innesimo Frutto del diavolo Che può sembrare Un frutto del diavolo mitologico E ti viene da chiedere Che animale mitologico è quello Perché Oda Finché non ti dice Che quello è L'animale del Non è un Kirin Non è un Raichu Non è un Pikachu Non è un Charizard Tu Non ne puoi parlare Io avrei voluto fare Un video Sull'animale mitologico Del Kirin Perché Come raccontavo Nella Blind Reading Reaction Ha tante correlazioni Che potrebbero tornare Sia perché è un animale mitologico Sia perché assieme Al drago Assieme alla fenice Assieme alla tartaruga E un tempo Assieme alla tigre È uno degli animali guardiani Della mitologia cinese Ma anche giapponese E soprattutto perché Come raccontavo Nella Blind I Kirin Sono degli animali Porta fortuna E che Alle volte Alle volte Presagiscono l'arrivo Di O una persona illuminata Oppure di Un nuovo sovrano Illuminato Quindi Dici Arriva Joy Boy C'è il Kirin C'hai tutto Ma noi non sappiamo Se quell'animale è un Kirin Può assomigliare Se tu ti va a vedere Quelle che sono Le immagini Dei Kirin Assomiglia tantissimo Assomiglia tantissimo Ma finché Oda Non ti dice Questa è un Kirin E che facciamo Facciamo I video Con le Non voglio dire Teorie fasulle O le fanfiction Però che facciamo Ci portiamo avanti Con il lavoro Non si può fare E quindi Effettivamente Questo è un altro discorso I due video Fake Trolloni Erano in realtà Anche Una sorta di critica Nei miei confronti De che cazzo parlavamo Sì Cioè Ma ve l'ho dato Il giudizio serio Mio Opinione Onesta Su questo capitolo Però Poiché so già Che internet Sarà piena Questa settimana E la prossima Di video Ah E quello è Frutto del diavolo Leggendario E quello è il frutto Di sto cazzo E quello è Che fanno in questo capitolo Si picchiano Si picchiano Si picchiano Si picchiano Ma che altro c'è da dire Ma questo Non è Un problema È un kirin Appunto Questo non è un problema Va bene Che si picchino Va bene Così come va bene Che noi Ogni settimana Non dobbiamo Per forza di cose Tira fuori Scienza Filosofia O fantascienza Perché comunque Dobbiamo fare Il contenuto Che poi Io l'ho fatto Moni grabbandoci Due volte Prendendovi per il culo È un altro discorso Ma chi c'era in live Lo sapeva Che aveva fatto Questo contenuto qui Perché l'avevo detto Ho detto Faccio un video In cui di cosa Solo si picchiano Punto La gente non mi credeva Io l'ho fatto sul serio Questo è il discorso Questo è il discorso Poi ognuno Naturalmente Ci vede tutto quello Che vuole Naturalmente Questo pezzo Adesso me lo fributo Da solo E domani Va su Sommobuta Con Cosa ne penso Sul serio Del capitolo 1019 Così la gente Lo aprirà Pensando Che ci sarà Un video In loop Si picchiano Ma invece Avrà un'opinione Onesta Su questo capitolo Così anch'io Non faccio niente Ancora una volta Troוה Sommarica Sommarica Insomma I